Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG. Andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda la nostra penisola, situazione che vedrà ancora l'Italia sotto l'alta pressione anche se avremo disturbi soprattutto nei pomeriggi delle prossime giornate a carattere temporalesco o di pioggia. Questa situazione si verificherà soprattutto nel centro nord Italia mentre il sud Italia rimarrà riparato e avrà ancora giornate calde e soleggiate. Situazione poi che cambierà con i primi della prossima settimana quando avremo un'entrata di una perturbazione abbastanza fresca dal nord est. Vediamo ora nel dettaglio cosa accadrà per la giornata di venerdì 30 agosto, giornata che sarà abbastanza soleggiata dal primo mattino. Nel corso delle ore centrali della stessa avremo nuvole in aumento soprattutto nei settori appenninici e preappenninici della regione con locali piovaschi soprattutto in appennino. Nel resto del territorio regionale i cieli si manterranno parzialmente nuvolosi o nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni. Avremo come detto ancora temperature calde con le minime che si attesteranno intorno ai 16-18 gradi mentre le temperature massime saranno comprese fra i 28-31 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.